Che allora è Serie B? Eh, forse non andiamo ancora a Capitoline, però no, ho un'ora e mezzo anche per finire. Pensando a un'ora e mezzo fa sembra incredibile. Secondo me siamo contenti, c'è una grossa in coria, ma ci renderemo conto tra qualche giorno, qualche ora, qualche giorno. Andrea, c'è una maglietta verde celebrativa. Mi dicono che è stata una tua idea, più o meno. Eh, è stata due o tre, però in silenzio, perché poi queste cose qua è meglio non dirle perché comunque qualcuno ti scalamazzi e poi... Cioè, c'erano state due o tre idee? Ma sì, però l'abbiamo fatta, ora ce la nasciamo. Questa quale la terrò, la terrò per sempre, perché come abbiamo detto in un buon intervista, per me veramente la chiusura di un cerchio. Ho iniziato a 14 anni con l'ora, a 17 giugno, con la vittoria Collivorno. E' passata tante esperienze, altre vittorie, in quattro campionati di Serie B. E' finita con un'altra vittoria di Pioffola, dalla Lega Pro alla Serie B. E vuol dire che... Dio esiste veramente perché è una roba... ma neanche il più bel finale che uno può scrivere, perché è sempre... Se parlando di finale, hai deciso di mettere... No, vabbè... Cioè, il finale di questa giornata. Non lo so, ora, godiamoci questa... Se l'ho detto nell'ultimo mese, c'è qualcosa di più bello e più importante che sapere quello che parlano di l'anno prossimo, quindi... vediamocela qui. Più bella questa o le scorse? L'ultima è sempre forse la più bella. Questa ha un sapore particolare per me, perché comunque è la prima vissuta da Capitano, quindi con delle responsabilità anche maggiori. Poi comunque, senza tutta la mia storia di questi ultimi mesi, però non pensavo di essere qui in questo momento, e riusci a dare un contributo magari qualche minuto in campo, se ripenso a come stavo a fine dicembre. Quindi, per me è una cosa veramente bella, che mi terrò dentro tutta la vita. Sono contento per i miei compagni. Il mister Colello, lo vorrei ricordare, perché comunque è parte del merito anche suo, perché questa squadra l'ha presa in una situazione difficile, l'ha costruita, ci ha creduto. Ora non è qua a festeggiare con noi, però ho un merito oltre dal ministro Sabatina che è anche il ministro Colello. Sono contento per i presidenti, perché sono stato comunque anche...